Ciao a tutti, come vi avevo già anticipato sono tre le piattaforme dove vi consiglierò di guardare i dramma più belli. Oggi vi consiglierò 5 drama da vedere su Viki Rakuten. Viki Rakuten è un'applicazione che potete scaricare da qualsiasi store, sia Android che Apple e su tantissime smart tv. Come vi dicevo contiene un 40% di drama gratuiti a cui tutti possono avere accesso. E dato che voglio introdurvi al mondo dei drama piano piano, oggi vi consiglierò 5 drama che sono per l'appunto gratuiti su Viki Rakuten. Il primo drama che vi consiglio oggi si intitola I discendenti del sole ed è un drama coreano del 2016 che vede come protagonista Song Joon-ki, uno degli attori coreani più famosi in assoluto. Questo è uno dei drama più belli in assoluto, con una storia che si alterna tra il mondo militare e il mondo medico e racconta una bellissima storia d'amore tra un capitano e una dottoressa volontaria in questa terra immaginaria dove appunto dovranno affrontare epidemie, disastri e insieme cresceranno e crescerà anche la loro storia d'amore. Questo drama è un susseguirsi di tantissimi eventi, infatti tiene veramente alta l'attenzione senza mai far staccare gli occhi dallo schermo. È anche molto molto emozionante, infatti un po' si piange perché davvero tocca il cuore, quindi ve lo consiglio assolutamente. Il secondo drama che vi consiglio oggi si intitola Io non sono un robot ed è un drama coreano del 2017. Questo è composto da 32 episodi però da mezz'ora. La storia di questo drama, anche qui romantica, è molto particolare perché qui abbiamo il protagonista che ha un'allergia agli esseri umani. Non può essere assolutamente toccato che gli parte uno sfogo su tutto il corpo ed è così che lui vive isolato dal resto del mondo in questa mega villa dove nessuno ha accesso. Un giorno gli succederà di avere accesso ad una nuova tecnologia in quanto lui è a capo di un'azienda potrà testare in anticipo un robot. Purtroppo però in seguito degli eventi questo robot non sarà subito disponibile e così una ragazza viene assunta per fingersi un robot. Così i due si ritroveranno a vivere sotto lo stesso tetto ma lui non immaginerà di avere un essere umano accanto a lui e credetemi che succederà di tutto. È una commedia romantica davvero oltre che emozionante anche molto divertente. È un drama veramente meraviglioso perché alterna momenti in cui si ride a crepa pelle a momenti davvero emozionanti quindi non potete perderlo. Terzo drama di oggi si intitola Oh My Venus ed è anche questa una storia d'amore. Drama coreano del 2015 che vede come protagonista un bellissimo Soji Sub. Racconta la storia d'amore tra questo personal trainer delle celebrità ed una ragazza un po' in sovrappeso diventata una famosa abvocatessa. I due sono amici d'infanzia però si sono separati e ora non si riconoscono l'un l'altra. È così che avranno una nuova occasione di avvicinarsi quando lui diventerà il suo personal trainer e l'aiuterà a perdere peso. Penso che questo sia uno dei drama più conosciuti per chi è all'interno di questo mondo ed è davvero molto emozionante quindi non perdetevelo. Il quarto drama di oggi si intitola Boo Two Words. Qui abbiamo sì una commedia romantica ma anche fantasy con una storia veramente fighissima. Drama coreano del 2016 composto da 16 episodi da circa un'ora e anche qui vediamo come protagonista uno degli attori coreani più famosi che si chiama Lee Jong Suk. Questa storia d'amore come dice il titolo è ambientata su due mondi diversi perché la protagonista è un medico che ha il padre che è fumettista. Giorno suo padre sparisce e lei scoprirà molto presto che è stato risucchiato all'interno del mondo di un fumetto che stava disegnando. Anche lei verrà all'improvviso risucchiata in questo mondo ed è qui conoscerà questo questo uomo milionario in pericolo con la vita. Lei gli salverà la vita più di una volta e ci saranno un susseguirsi di tantissimi eventi che li porterà pian piano anche ad innamorarsi. Questo drama tiene veramente l'attenzione altissima perché succedono veramente tante cose e alla fine ci si emoziona anche. Terminiamo i consigli di oggi con una storia d'amore veramente speciale con il drama Last Angel Mission Love. Drama coreano del 2019 composto anche questo da 32 episodi da mezz'ora che vede come protagonista una delle mie attrici preferite anche qui abbiamo una commedia romantica però fantasy. Racconta la storia di questa ballerina che ha ereditato una fortuna dopo la morte dei genitori diventata però molto cinica e diffidente dopo che un incidente la rende cieca. Un giorno si imbatterà in Kim Dan, un angelo che ha la sua ultima missione prima di ascendere definitivamente al paradiso, ossia far ritrovare l'amore alla ballerina. Per lui sarà una missione veramente molto difficile perché lei ha un caratterino veramente un po' complicato, non si fida più di nessuno e quindi porre la sua fiducia in questo angelo sarà molto difficile per lei. Però pian piano nascerà una storia d'amore meravigliosa con uno dei baci più belli visti in un drama coreano. Anche qui preparate i fazzoletti perché è davvero molto emozionante. Come avrete notato oggi vi ho consigliato 5 drama molto diversi tra loro con alla base sì una storia d'amore ma che spaziano comunque su generi diversi. Questo è appunto uno dei pro di entrare in questo meraviglioso mondo dei drama, non sia mai una storia uguale all'altra. Aspetto ovviamente di sapere se li avete visti cosa ne pensate e se avete intenzione di vederli fatemi sapere se siete d'accordo con me. Vi ricordo che potete trovarmi sia su tiktok come jessi vernola che su instagram come kdrama heart. Vi aspetto! Ciao!